Sì, uno, due, tre. Mercoledì 22 febbraio, buongiorno da Gabriele Silvestre dalla redazione e benvenuti al nostro consueto spazio dedicato alla informazione con la rassegna stampa di oggi con i quotidiani nazionali e poi notizie dell'ultima ora dal web. Andiamo subito a vedere i temi principali della giornata con la prima pagina di Repubblica che apre con la protesta dei tassisti, degli ambulanti, giorno di fuoco, la sindaca Raggi in strada, sono con voi, la protesta a Roma, bombe, carta e pestaggi, fermati tre neofascisti, il governo e i sindacati, tornate al lavoro in un mese decreto anti-Uber. Questi sono gli ultimi sviluppi ma ne parleremo ampiamente nel corso di questa rassegna. C'è anche la questione PD, Emiliano resta e si candida, Bersani invece all'addio, non mi iscrivo, viaggio negli Stati Uniti di Renzi, vado ad imparare. Non solo resta Michele Emiliano ma si candida a guidare il partito che fino a ieri voleva lasciare, mentre dal PD vanno via oltre a Massimo D'Alema, Pierluigi Bersani, Roberto Speranza e Enrico Rossi. Una ventina di senatori e tra i 12 e i 15 deputati. Intanto il segretario dimissionario Matteo Renzi spiazza tutti e vola in California. L'analisi di Rampini, ma la California è un modello perduto. È stato fortunato Matteo Renzi a riuscire a imbarcarsi su un volo per la California, per molti italiani. In queste ore raggiungere un aeroporto è stato difficile, vista la paralisi per le proteste anti-Uber. Le idee di Massimo Recalcati, quei dem sul lettino dello psicanalista, nelle letture politiche dell'ascissione in corso. Nelle PD il coro sembra essere giustamente unanime. La scissione è il frutto di una irresponsabilità che coinvolge entrambi i contendenti. Ancora la questione ai taxi. L'onda nera di Forza Nuova che dalle curve marcia sulla piazza. I picchiatori. E poi il commento. Grillo cavalca la tigre popolista, scrive Sebastiano Messina. Roma assaltata da tassisti e ambulanti. Le bombe carta franturano le vetrate dei palazzi. E lo scenario, se tutti pagano il caos trasporti. Il settore dei trasporti sembra in preda ad una specie di epilessia che si accanisce contro i consumatori. Le altre notizie dagli esteri. Il caso, i fantasmi di Parigi e Atene sull'Europa. Oggi la numero uno dell'FMI, Christine Lagarde, sarà a Berlino per incontrare Angela Merkel. E intanto il suo vice, David Lipton, esprime fiducia in un accordo con Atene. Roberto Toscano scrive il personaggio Marine Le Pen e la mossa del velo rifiutato. Come dobbiamo interpretare la visita in Libano di Marine Le Pen? Ovviamente la leader del Front National fa politica in vista delle imminenti elezioni presidenziali. Punta ad accreditarsi come figura di livello internazionale. In taglio basso troviamo le altre notizie su Repubblica. Aborto sì. All'assunzione di medici non obiettori. La svolta del San Camillo a Roma. Assunti perché non obiettori. Con un concorso riservato unicamente a ginecologi dedicati alla legge 194. Per contrastare l'enorme ricorso all'obiezione di coscienza che in molte regioni d'Italia rende sempre più difficile accedere all'aborto. Alla fine Roma ce l'ha fatta vincendo resistenze e ricorsi al TAR. Nelle prossime settimane due dirigenti medici entreranno nell'equipe di interruzione volontaria di Garvidanza all'ospedale San Camillo Forlanini. Uno dei più grandi della capitale ma soprattutto punto di approdo, spesso ultimo, per migliaia di donne che arrivano da tutta la regione. E poi il trafiletto che riguarda il calcio, Allegri, la legge Juve, Bonucci paga per tutti. Fuori con il porto per punizione perché un muro di cemento diventa di colpo una lastra di cristallo. e cosa succede se dietro quella barriera c'è la Juve nuda e come se in una manciata di ore fosse scomparso un intero mondo bianco-nero. Continuiamo la nostra rassegna stampa adesso con la prima pagina del Corriere della Sera. I titoli che troviamo in apertura, taxi, gli scontri e poi l'accordo. Bombe e carta al corteo di Roma, quattro fermati, il governo annuncia un decreto entro 30 giorni. E poi la sindaca Raggi che si schiera con i tassisti sono con voi in serata alla svolta. Nella trattativa, fotonotizia che mostra il clima di violenza al corteo, scontri e caos nelle città per la protesta. In serata è arrivata l'accordo, bombe e carta al corteo di Roma, quattro fermati, mentre la sindaca si schiera con i manifestanti. E poi la sinistra senza merito scrivono Alberto Adesina e Francesco Giavazzi. Che cosa significano oggi sinistra e destra? Non è affatto chiaro, sono di destra i lavoratori del Michigan e dell'Ohio che hanno eletto Trump, scontenti per i loro salari stagnanti e sono di sinistra i lettori della destra populista europea, compreso il Movimento 5 Stelle, contraria all'immigrazione per proteggere i lavoratori locali, estendendo lo Stato sociale ma solo a loro. E di sinistra chi difende i pensionati a tutti i costi, opponendosi a ogni limitazione della spesa previdenziale e non curandosi del debito pubblico che peserà sui nostri nipoti. A noi pareva che Marx parlasse di lotta di classe e non di lotta fa generazioni. La sinistra tradizionale, quella degli anni 70, aveva alcuni principi chiari. Protezione sociale anche a scapito della meritocrazia. Qualunque lavoratore, anche i pigri, incapaci o addirittura i disonesti, andava difeso. Nella scuola e nell'università egualitaria contava solo l'anzianità, ma il merito, mercati regolamentati da quello degli affitti, l'ecocanone che ingessò il mercato penalizzando chi una casa non la poteva comprare, alle licenze di tassisti, farmacisti e di tante altre professioni ancora ben protette. Un mercato del lavoro fondato su insider in ipergarantiti e licenziabili, con giovani e donne esclusi da regole eccessivamente rigide, dove persino il part-time era giudicato una cosa di destra. Pensioni concessi ad alcune categorie privilegiate, ad esempio insegnanti, dopo pochi anni di lavoro, con il risultato che la dinamica del debito era diventata una bomba a orologeria. Il commento di Sergio Rizzo sulla protesta dei tassisti. La protesta è legittima, ma il tira pugni. I tassisti di tutta Italia avranno anche le loro buone ragioni per protestare, ma non è questo il punto, perché le scene alle quali abbiamo assistito ieri a Roma le hanno fatte passare nel secondo piano. Non si può andare in piazza con i tirapugni e le bombe carta. Nel 2017, in un paese civile, non lo può fare nessuno, non importa chi fosse il signore immortalato nella foto pubblicata ieri da Corriere.it, che impugnava quel grazioso tirapugni cromato. Di sicuro non un lavoratore preoccupato per il proprio posto di lavoro. E non ci stupiremmo se venisse fuori che le manifestazioni di ieri rappresentavano per qualcuno solo il pretesto per scatenare violenze. Troviamo a centro pagina invece la questione della scissione PD. Emiliano ha la scelta di restare. Sfido Renzi, riunifico il Partito Democratico. Rimango nel PD perché Renzi era felice che me ne andassi, dice Michele Emiliano. Alle primarie posso batterlo anche con i voti degli scissionisti e riunificherò il Partito. D'Alema, l'Italia ha bisogno di una sinistra forte, non di una presenza di testimonianza. Renzi è anaffettivo, ma agli scissionisti manca tutto. Struttura, tesi e persino il nome. La scissione alla chetichella, scrive Pierluigi Battista. Una scissione fredda, anzi gelida. Tutti, chi resta e chi lascia, senza un soffio di pathos. Il massimo del coinvolgimento emotivo, finora riscontrato e da segnalarsi nell'occhiataccia con cui Renzi e Orfini hanno accolto il tentativo di stretta di mano di Emiliano domenica scorsa. E tutti assistono senza capire, come un lento dissolvimento, più che con una separazione netta, è una scissione al rallentatore. Le altre notizie sul Corriere della Sera. Il paradosso di Afragola, la megastazione tradita dai treni, la nuova stazione dell'alta velocità di Afragola, progettata da Zarid, bellissima. Ma cosa servirà? Poi il sisma e la stagione turistica, se per gli sfollati non ci sono hotel, in crisi l'accoglienza degli sfollati del sisma. Gli hotel che li ospitano, riaprono ai turisti e le casette. Non ci sono. Poi il calcio, stasera la Juventus in Champions League, Allegri a Bonucci. Tu resti in tribuna, linea dura di Allegri dopo il diverbio di venerdì, stasera Bonucci guarderà dalla tribuna la sfida di Champions della Juventus. Con il Porto, e poi ancora troviamo in taglio alto i titoli che riguardano gli esteri. Trump, il bando ora più severo, ecco la stretta sugli immigrati, le regole di Donald Trump, mentre Marine Le Pen, la candidata all'Eliseo in Francia, rifiuta il velo, salta l'incontro con il Mufti in Libano. Ci fermiamo adesso, una piccola pausa per noi, torniamo con tutte le notizie anche dal web. Fra poco. Grazie. Grazie a tutti.